Leggo i vostri messaggi, tantissimi ogni giorno mi scrivono delle terme luigiane, ancora di più stamattina perché un giornale ha pubblicato un articolo nel quale si dice che la regione sarebbe interessata ad acquisire il pacchetto di controllo della società che gestisce le terme, è così perché delle terme mi sto occupando da mesi, ho parlato con i dipendenti, ho parlato con i sindaci, ho parlato con i principali azionisti della società che gestisce le terme, ho detto a Fincalabra già qualche settimana fa di fare una valutazione sulla società e di intavolare una trattativa con la società che gestisce le terme, perché sul settore termale io vorrei che il mio governo regionale facesse un grande investimento, non solo sulle terme luigiane ma su tutte le terme della Calabria e questo può essere il primo passo, speriamo ci siano importanti novità perché la stagione termale è alle porte e io vorrei che si potesse svolgere nel migliore dei modi, dando la possibilità alla regione anche di fare gli investimenti per far decollare non solo le terme luigiane ma tutte le terme della Calabria.